benvenuti benvenuti cari amici siamo viti questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di distruggere il bottone like iscrivervi canale per cui iniziamo le analisi di oggi naturalmente con la cripta total market cap andiamo a vedere perché abbiamo presi 2.06 trillions quindi siamo a rialzo lo vedete chiaramente siamo all'interno di questa trend line ascendente quindi sempre qua dentro e dicevamo nella giornata ieri voglio vedere un movimento rialzista ora questo movimento c'è diciamo dovuto per lo più alle alze bitcoin è sempre lì in zona 54 barra 55 mila ok quello che mi aspetto è che naturalmente assolutamente ok la la cripta total market cap deve alzarsi ulteriormente quindi il mio target sono i 2.3 trillions ok successivamente magari anche i 2.5 ok successivamente piccolo drop a 2.2 ok 2.3 sarebbe secondo me il top e successivamente ok andare su 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 verso i 3 trillions questo è quello che mi prospetto secondo me al momento non avremo problemi perché oggi scadono le opzioni per cui il peggio ok è passato e secondo me andremo a rialzo diciamo fortemente in particolare penso che bitcoin riandrà a prendere un po di dominance andiamo infatti a vedere la dominance perché sta calando sempre di più ora la mia visione la mia idea parlavamo dei 50 ok 50 presi ora la mia idea è che possiamo andare anche a 45 ok quindi sempre all'interno di questa tre line discendente quindi ottimo per chi è ancora sulle altcoin me compreso io ho sempre una parte in bitcoin sempre bitcoin e bitcoin ok però penso una volta presi i 45 ok secondo me ci sarà un imbalzo sarà un imbalzo che potrebbe arrivare a 50 barra 55 e successivamente un nuovo movimento discendente quello che vorrei vedere anche sulla bitcoin dominance una volta proprio preso questo diciamo livello di 45 poi ripreso che 50 55 successivamente andare giù e un po di lateralizzazione lateralizzazione con la crypto total market cap però che salga in tal modo secondo me potremmo crescere in maniera veramente ma veramente diciamo ingente ok e andare pian pianino verso i 100 mila per quanto riguarda bitcoin andiamo a vederci proprio bitcoin il mio target naturalmente non lo conoscete per i nuovi sono gli 80 mila ok target secondo me che potrebbe delinearsi anche a fine maggio barra giugno ok questo è il mio target ora bitcoin 54 e 4 ok cosa è fatto nel movimento di oggi allora ieri c'è stato un piccolo drop ok l'abbiamo visto oggi si è già ripreso un pochino e quello che mi aspetto è proprio questa spinta propulsiva dal mio punto di vista andremo a lateralizzare un po ok probabilmente ancora le ads che performeranno su bitcoin ma dovrà arrivare assolutamente ok una spinta rialzista anche di tipo propulsivo secondo me ora siamo all'interno di questa trend line ascendente ok il movimento che mi aspetto è di questo tipo ok potenzialmente però è molto probabile che questa trend line rialzista verrà rotto ok possibile ancora lateralizzazione ok quindi con una nuova formazione andremo a vedere poi anche nei prossimi giorni andremo mille analizzare però secondo me nel long diciamo il target rimane prima diciamo l'annientamento che di 64.700 e successivamente raggiungimento degli 80 mila andiamo per cui a vederci ethereum ethereum molto ma molto bene sta rubando veramente tantissimo a bitcoin siamo sempre all'interno di questa trend line perfettamente perfettamente e ethereum potrebbe ok 3.000 le abbiamo qua ok quindi perfettamente in target probabilmente il mio punto di vista una volta presi i 3.000 non so se ethereum avrà la forza di romperli per cui avrà bisogno di un diciamo uno scarico che potrebbe anche arrivare a 2.600-2.700 ho visto di molte persone che parlano addirittura acquisterò ethereum a 2.200 secondo me con bitcoin così che deve fare ancora spinta propulsiva possibile che non vedremo più ok ethereum a questi livelli nel breve ok ma in un bear market sì però nel breve secondo me assolutamente no andiamo a vederci binance coin binance coin molto molto vicino non è solta mai che di 637 dollari ora siamo a 617 dollari sembra voler addirittura rompere la trend line realzista vedete qua sta proprio uscendo e secondo me su binance coin potrebbero arrivare veramente e stanno arrivando sempre più istituzionali secondo me ne arriveranno tantissimi perché si sta capendo che la potenza dell'absc di conseguenza che su binance coin non vedo limiti parlavamo ieri di un target di 800 dollari che secondo me è più che raggiungibile andiamo a vederci xrp ok oggi volevo fare un particolare focus sia su xrp che su stella lumens perché vanno a bracetto ok quello che abbiamo visto su xrp era stato questa spinta propulsiva veramente diciamo ingente da 0.65 a 1.97 ora ora quello che mi aspetto è che questa spinta propulsiva ok vada a riprodursi nuovamente quindi se io pongo questa trend line qui ok secondo me farà un movimento uguale e poi la pongo qua potenzialmente secondo me un target di 250 ok a rialzo ovviamente come sempre non sono né consigli finanziari né trading ma questa diciamo è la mia idea vediamo che proprio le due trend line che ho sovrapposto ok indicano che il movimento di xrp al momento ok al momento è proprio all'interno vediamo che i movimenti sono leggermente differenti però ad esempio questo movimento mi ricorda molto questo movimento quindi se addirittura il movimento rialzista partisse da qua potenzialmente siamo ancora più bullish ok anche 3 dollari questa è un po' la mia idea andiamo a vederci stellar perché stellar se guardate stesso movimento di xrp andate anche in questo caso a sovrapporre ok la stessa trend line quindi partendo da qua andiamo a sovrapporce la ok quindi questo è il minimo andiamo a sovrapporla e effettivamente io avevo tracciato un diciamo il raggiungimento degli ultramai è a 0.83 secondo questa prospettiva potremmo raggiungere i 0.80 quello che mi aspetto io potenzialmente su xrp 250 su stellar lumens 0.80 successivamente magari drop per quanto riguarda stellar ok a 0.69 quindi che era il suo vecchio ultramai che ci farà da supporto e successivamente di partenza ora stavo valutando anche di entrare su xrp ma era un po' più vi dico la verità ingente ok perché vedo che xrp e stellar almeno al momento c'è una forte correlazione positiva ok di conseguenza sto valutando sto valutando al momento non ho dotazioni in xrp possibile ok possibile che parte di me stellar li convertirò in xrp possibile perché vedo questa forte correlazione però dovrò ancora pensarci naturalmente avviserò se farò qualche mossa del genere naturalmente non sono nei consigli finanziari di trading ma a me piace diciamo ragionare con voi e anche scrivetelo nei commenti quello che pensate voi andiamo a vederci soliana soliana direi ottima parlavamo di questo possibile contatto che col punto di tangenza a 41 e 51 effettivamente ha fatto 41 e 28 in giornate ieri quindi direi preso ok così possibile che soliana stia sempre all'interno della tale nascendente ok se non ci saranno drop di bitcoin e successivamente riparta riparta secondo me verso i 50 dollari quindi vada a passare questi 48 e 55 e successivamente secondo me soliana un progetto destinato veramente ad andare sulla blockchain di soliana si sta costruendo veramente ma veramente tanto rif finalmente la nostra rif sembra proprio in questo momento ok partire gli avevo tracciato questo movimento rialzista secondo me ris rif è destinata a fare skyrocketing nella giornata di oggi questo momento praticamente siamo a 4 centesimi manca veramente ma veramente poco arriviamo all'interno di questa trenera nascendente completamente rotta quindi a questo punto e cosa mi aspetto su rif secondo me la giornata di oggi potremmo anche andare a prendere i 0 0 42 ok anche anche più 0 0 45 naturalmente rif ci abitua a questi movimenti proprio di skyrocketing ok veloci per l'appunto quindi cosa mi aspetto a rif rif secondo me andrà molto molto in alto successivamente ma riscaldi proprio per uscire tra le line e poi per ripartire secondo me rif è destinato che a passare quello che risuolta mai proprio in questo momento diciamo sta per fare 4 centesimi se volete la seguiamo un attimo però sì ora penso arriverà la rottura di 4 centesimi andiamo a vederci v china v china anche lei sempre in tre line ascendente secondo me se recupera ok se resta all'interno di questa trend line non vedo alcun problema movimento che mi prospetto su v chain è di questo tipo e pian pianino andremo a prendere i massimi quindi su v chain non vedo alcun problema andiamo a vederci cake che sta performando alla grande pensate 43.50 dollari ieri è stato integrato anche il beta non so se lo avete visto delle cosiddette previsioni che potete fare su su cake è che stanno stanno lavorando veramente alla grande se questo ci aggiungete che se voi mettete in staking vostri cake avete rendimenti del 100 per cento su pancake banni avete addirittura del 120 per cento più vi danno il 179 per cento su banni secondo me cake è un qualcosa di pazzesco ok probabilmente anche qui ho delle dotazioni non ingentissime però ce le ho che naturalmente è un progetto molto più discorso rispetto ad altri però sta andando veramente alla grande vediamo come si entra in line ascendente e a questo punto su cake non vedo limiti ok andiamo a vederci prometheus prometheus diciamo ve l'ho inserita perché ieri ha fatto questo skyrocketing veramente direi pazzesco ok dal mio punto di vista una cosa pazzesca vorrei solo segnalarvi state attenti ok quando succedono queste cose non fatevi prendere dalla fumo che hai paura di rimanere fuori se non c'è questa coin ce ne saranno altre ok è meglio posizionarsi ok qua da qualche parte e aspettare piuttosto che entrare in piena salita che poi arrivano anche le discese guardate qua anche qua ci fu una prima salita poi c'è la discesa meglio casomai posizionarsi ok dopo uno scarico bellingente questa è la mia idea per cui se ti è piaciuto questo video ti ricordo di distruggere il bottone like iscriviti al canale e ci vediamo presto grazie a tutti